Il treno regionale delle ore 19.05 per Rimini via Ravenna è in partenza da Pinaria 9. Il treno regionale delle ore 19.05 per Rimini via Ravenna è in partenza da Pinaria 9.05 per Rimini via Ravenna è in partenza da Pinaria 9.05 per Rimini via Ravenna. Rimini via Ravenna. Il treno regionale delle ore 19.10 per Verona Porta Nuova è in partenza da Pinaria 1 Piazzale Ove. Il treno regionale veloce delle ore 19.10 per Venezia Santa Lucia è in partenza da Pinaria 9.05. Il treno regionale delle ore 19.05 per Rimini via Ravenna è in partenza da Pinaria 9.05 per Rimini via Ravenna. Un treno regionale delle ore 19.11 per Rimini via Ravenna.